Ciao a tutti. Benvenuti nel nostro canale. Oggi vogliamo condividere con voi un toccante ricordo dell'immunologa Antonella Viola, che ha recentemente perso suo padre, Gerardo. Ma prima di entrare nei dettagli, se non siete ancora iscritti al nostro canale, vi invitiamo a farlo per rimanere aggiornati su storie emozionanti come questa. Antonella Viola, una rinomata scienziata, ha dedicato un messaggio speciale al suo papà, Gerardo, che ci ha lasciati all'età di 89 anni. Nel suo commovente messaggio condiviso sui social, Antonella ha sottolineato quanto suo padre sia stato fondamentale nella sua vita. Gerardo ha sempre sostenuto Antonella in ogni fase della sua crescita. Dalla corsa per comprare un album da disegno per la scuola all'accompagnarla alle feste, e persino seguendola fino a Basilea per il suo lavoro. Ha sempre dimostrato un amore incondizionato, prendendosi cura dei suoi figli e permettendole di perseguire la sua carriera in serenità. Antonella Viola ha sottolineato come suo padre l'abbia influenzata profondamente, spingendola a studiare e diventare l'importante figura scientifica che è oggi. Il papà di Antonella ha condiviso con lei storie della conquista della Luna mentre era ancora una neonata tra le sue braccia. Ispirandola a diventare una donna di scienza. È un omaggio emozionante a un legame straordinario tra un padre e sua figlia. Che ha plasmato il percorso di vita di Antonella Viola. La sua storia ci ricorda l'importanza di chi ci ha sostenuti e ispirati lungo il cammino. Vi invitiamo a condividere le vostre storie e riflessioni nei commenti qui sotto. E se il nostro contenuto vi emoziona e vi interessa, vi preghiamo di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi video. Grazie per averci seguito. Ci vediamo presto.